Ciao a tutti e benvenuti a Cucinare con Francesca. La prima ricetta di oggi sarà spaghetti con i carciofi. Per preparare gli spaghetti con i carciofi occorrono 3 carciofi, uno spicchio d'aglio, un massettino di prezzemolo, olio e sale quanto basta, un bicchiere di acqua e un pochino di formaggio. Per prima cosa puliamo i carciofi. Dopo averli puliti e lavati li facciamo agli starelli, molto sottili. Aggiungiamo lo spicchio d'aglio, tagliato da lì. E' un po' bellissimo. Ciao a tutti. Ho messo tutto insieme perché io non amo molto i soffritti, non riesco a farle le cose più leggere. Nel frattempo ho messo a bollire l'acqua con un pochino di sale per gli spaghetti. Spaghetti in genere io metto 80 grammi per persona. Dopo 5 minuti questo è il risultato. Altre 5 minuti quando l'acqua a pisi sarà asciugata e saranno pronte. Aggiustate di sale se vi sembrano più sciocchi. I nostri carciofi sono pronti, adesso aspettiamo che se lo porti gli spaghetti. L'acqua nel frattempo bolla, mettiamo gli spaghetti, ne metto circa 80 grammi per persona. Scolato gli spaghetti, adesso aggiungo un filo d'olio a crudo e aggiungo il formaggio. E lo scoliamo. Ed ecco qua che i nostri spaghetti con carciofi sono pronti, adesso lo andrò a piaccere. I nostri spaghetti con i carciofi sono pronti. Sono un piatto molto leggero anche perché non ho fatto neanche i soffritti e sono molto buoni. Se vi è piaciuta questa ricetta lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale. A presto!